c'era che mi sono fatto il piercing, no sto scherzando, è un piercing finto con questi cosi qui, non so se li vedete, servono per tenere il finto piercing, cioè è un piercing vero, che sarà che non faccio il buco, questo non si tiene così, raga non si tiene così questo però, è un proprio ferro di cavallo questo, si può fare anche più corto tirandolo su, è più lungo, tirandolo giù, lo preferisco più corto io, così, perché è più comodo però, è abbastanza così, è perfetto, è meglio così perché è più comodo, vabbè, adesso ci sarà questo video però, non lo farò come vuoi però mi dispiace, lei è la protagonista nuda, cioè però, guardate che figa, cioè batte le mani, non è mia, è di mia cucina però, gliele sistemerò al barbie, cioè lei si chiama Aisha che mi vuole sempre prendere il ferro di cavallo, però vabbè, guardatela, io la metto qua, mi cerco di prendere il ferro di cavallo, alle volte quando me lo avevo fatto veramente, ve l'ho tolto, a dove li facevo veramente, e ce lo vivo, questo non sto scherzando, mio cugino andava lì e mi faceva così, con la barbie, però mi ha da fatica perché poi scende, quindi, vabbè, ragazzi, ci vediamo, ciao!